Ho avuto il messaggio. Che succede? Abbiamo esagerato nello screditare Robespierre. Che è successo? È stato arrestato. Cosa? Parecchi abbiamo minacciato una purga contro i nemici dello Stato e la Commissione si è ribellata. Lo portano alla prigione del Luxembourg. L'esecuzione è fissata per domattini. Allora dobbiamo raggiungerlo. E' morta il tiranno Robespierre. Parigi è per la ghigliottina, direi. Parigi è per Robespierre. Ma che diavolo? Quelle sono guardie nazionali. La scorta di Robespierre. No, se lo perdiamo. Niente panico per ora. Possiamo ancora scoprire che cosa è successo. Come stai lì? Che scoprire la storia. Ah no. Ah no. Che scoprire la storia. Ah no. Elis Cos'è successo qui? Era una trappola Le truppe della comune ci hanno aggredito Volevano liberare i prigionieri Hanno preso Robespierre? Non lo so Sono rimasto indietro Ma sono andati di là Grazie Ora vai da un medico Sei ancora in custodia Sarà già alla prigione del Luxembourg Altrimenti si saranno rintanati qui da qualche parte Non andranno lontano Con mezza città contro Robespierre Vado alla prigione Tu segui la rivolta Vedi se trovi una traccia Bene Dove sono andati? Per di là Robespierre Robespierre Laggiù Omicida Bastardo Tiranno Ricorda Corra signore Resisteremo in attesa dei rinforzi Sei un eroe della Francia Amico mio Mai più la tiretnia Raditore del cazzo Dove scappare Non fio da tutti Vediamo Ricordate i genitori Non c'è salto Robespierre Dove vai? Te la sei fatta sotto? Grazie a Dio siete salvo, signore. La comune è con voi. Grazie, sergente. Lodo la vostra lealtà. Meglio entrare. Arrivano le guardie della convenzione. Sì, certo. Io affido me stesso alle vostre mani. Si rende noto che la comune, a causa della protezione offerta al criminale Robespierre, è ora in aperta rivolta contro la nazione. Le guardie della convenzione nazionale hanno il compito di arrestare il traditore Robespierre e i suoi seguaci. Consiglia di rimanere in casa, in che giustizia non sarà fatta. Si rende anche noto che i cittadini Robespierre e Arrivano, i loro alleati, sono fuori legge. Qualsiasi cittadino che aiuterà questi criminali, andrà in ghiaccio. La giustizia rivoluzionaria rivolterà. Non dovete prenderlo alle spalle. Sei finito? Sono nostro. Mi troverò. Sono dietro di te Sono dietro di te Peccato di farlo non sistemi tutti Sono dietro di farlo 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 Germaine mi ha parlato di te Sei uno di loro, vero? Un assassino Non più Dov'è Germaine? Elisa Non resta molto tempo Dov'è Germaine? Io non parlerò Allora Sono dietro di farlo Sono dietro di farlo Sono dietro di farlo